il ventesimo comandamento non mangiare a natale non mangiare a capodanno l'avete trasgredito ma scalzoni farabutti perché avete ingerito questa monnezza il panettone il tolone la nutella le cioccolate i bruscolini i pedalini voi siete mangiati la cassetta con tutto il pedalino e il padrino non ci resta più ma che dico ma vi rendete conto oh svegliatevi che mangiate dieci giorni dopo diventati i mostri di Colfermlock oh ma di come state rendendo conto tu mi avete chiesto Colfermlock è il mostro delle montagne si chiama il mostro di Colfermlock allora che dovete fare siete diventati un pandoro